C'è una signora che va all'Ikea a comprare un armadio e dice mi serve l'armadio per la camera dal letto, va bene prenda questo, dice ma che è facile da montare, è facilissimo, c'è le istruzioni, la signora porta l'armadio a casa, inizia a montarlo, segue tutte le istruzioni e lei sta vicina alla stazione, alla ferrovia, passi il treno e l'armadio si smonta, madonna dice deve aver sbagliato qualcosa, lo rimonta, guarda, abellino, ripassa il treno e si smonta, c'è il telefono all'Ikea e dice oh, c'è l'armadio tutte le volte passi il treno e si smonta, dice ha seguito male le istruzioni, guarda l'ho bello montato due volte, mi mandi qualcuno, va bene, e gli manda l'omino degli armadio dell'Ikea, c'è l'omino glielo monta lui, dice guarda aveva seguito male le istruzioni, passi il treno, bruno e si smonta, dice ma secondo me, secondo me allora devo guardare da dentro, c'è si mette dentro l'armadio e dice aspetta un attimo che passi il treno, va bene, nel frattempo entra il marito a casa, oh vado a per lì in questo armadio, lo apre, trova l'omino dentro, dice che ci fa qui? ti dirò, ti trombò la moglie perché se ti dirò aspetta il treno tu ci riesco ti casato, tią andi ti